... Marina, il Tar del Lazio ha annullato il provvedimento della soprintendenza. L'ex sindaco Moscherini esulta e parla di legalità ripristinata. L'Unità si lancia un grido d'allarme sulla sua situazione e fa appello alle istituzioni per avere aiuti che possano garantire il servizio di assistenza ai disabili. Morti a Fiumicino, ancora giallo sulle cause, monossido di carbonio, cibo avariato, decisiva all'autopsia. Le analisi hanno escluso l'avvelenamento da Botulino. Ragmi nel torneo di serie B, il CRC di Michele Fabiani supera tra le mura amiche del Moretti, della Marta e il Frascati per 22,5. Nuova edizione del telegiornale Alto Lazio, ben trovati. Si torna a parlare di Marina. Il Tar del Lazio è entrato nel merito annullando il provvedimento della soprintendenza del 20 aprile 2012. E l'ex sindaco Gianni Moscherini esulta. È stata ripristinata la legalità. Era tutto regolare. Contro di me sono stati usati atti illegittimi e abusi d'ufficio per eliminarmi e farmi perdere le elezioni. Ma sentiamo i particolari nel servizio. Alla fine, sulla Marina ha avuto ragione Gianni Moscherini. Lo ha riconosciuto la sezione seconda quater del Tar del Lazio, che con sentenza di merito lo scorso 17 dicembre, ma il depositato è avvenuto solo nei giorni scorsi, ha accolto il ricorso dell'allora sindaco, annullando il provvedimento del 20 aprile 2012, con cui la soprintendenza sostanzialmente confermava la propria tesi, secondo cui i famosi locali tecnici costituivano un abuso edilizio, definendo gli spazi indefiniti, mentre, dopo un altro successo al Tar dell'amministrazione Moscherini, la commissione tecnica del Ministero delle Infrastrutture aveva identificato i suddetti spazi come locali tecnici. È una vittoria, commenta soddisfatto Moscherini, che fa giustizia e ripristina la legalità, dando ragione alle tesi che ho sempre sostenuto. Trovando un'opposizione personale e politica che, in spregio all'interesse della città ad avere l'opera completata, ha agito con la complicità di chi ha prodotto atti che oggi vengono definiti illegittimi e che a loro volta hanno costituito un abuso di ufficio. Finalmente la Marina potrà essere completata, ma non certo per le scelte dell'attuale amministrazione. Ora qualcuno dovrà risarcire me e la città per i danni subiti, influenzando anche l'esito delle elezioni in cui la vicenda marina ebbe un peso notevole. E riferendosi alla sentenza del Tar del Lazio, il primo cittadino Pietro Tidei parla di una vittoria inutile, visto che questa amministrazione aveva già sistemato le cose e che la Marina è pronta ad aprile. Questo dimostra che non c'era nessun bisogno né di ricorsi al Tar contro la sovrintendenza né di avvocati. Idem per il mercato, i meriti dunque, dichiara Tidei, li rivendico tutti per la mia amministrazione. Per gli assessori, i consiglieri delegati e i professionisti che hanno lavorato in questi ultimi mesi, portando a casa concretamente questi obiettivi. E quella dunque che l'ex sindaco Moscherini chiama vittoria in realtà per Tidei potrebbe trasformarsi in un pericolosissimo boomerang. Se la sovrintendenza spiega, si opporrà alla sentenza, potremmo trovarci di nuovo in alto mare. Dunque aggiunge, sarei molto prudente nel cantare vittoria, vista oltretutto la scia dei guai seminati qua e là, come le 250 assunzioni ad HCS. E l'Unitalsi Associazione Volontaristica, il cui scopo istitutivo consiste nell'assistere ed accompagnare soggetti disabili in mete di pellegrinaggio, ha lanciato questa mattina un appello nella persona del suo presidente Giulio Spinelli, è rivolto alle istituzioni e ai cittadini. Sentiamo il servizio. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Sono queste le parole di Giulio Spinelli, presidente dell'Unitalsi di Civitavecchia, in un appello rivolto ai cittadini e all'amministrazione in corrispondenza dell'imminente pubblicazione dei bandi di ammissione al Servizio Civile Nazionale, che dovrebbe avvenire a maggio. L'Unitalsi, associazione volontaristica radicata sul territorio da quasi 30 anni, ha come scopo istitutivo l'organizzazione di pellegrinaggi cui partecipano i suoi volontari per accompagnare ed assistere i malati durante la permanenza, e fornisce tutta una serie di importanti servizi ulteriori, quali accompagnamento gratuito degli inabili ai centri di terapia, organizzazioni di gite, feste, incontri socioculturali, occasioni di ritrovo e condivisione. Tutto questo completamente a spese e grazie al sacrificio e all'impegno dei propri volontari. Il soggiorno di quattro giorni all'URSS, dichiara Spinelli, comporta una spesa per ciascuno assistito e volontario di oltre 600 euro. Sosteniamo spese analoghe per ciascuno dei viaggi e dei soggiorni che organizziamo ogni anno, occasioni indispensabili per alleviare anche solo per pochi giorni il carico di lavoro delle famiglie e dei nostri assistiti. Abbiamo poi i costi per l'affitto della nostra sede, quelli per il carburante e la manutenzione dei mezzi, persino l'acquisto delle divise. Si tratta di miliardi di euro l'anno, per ciascuno di noi, spese che in giorni come questi è sempre più difficile sostenere. Da questo punto di vista, i numerosi contributi che abbiamo ricevuto negli anni dalla Fondazione Caricive sono stati di grandissimo aiuto, ma purtroppo non basta. La nostra speranza è che questo appello serva a sensibilizzare i cittadini attorno alla realtà della nostra associazione e del volontariato in generale, arrivando a quelli che vogliono contribuire con noi a promuovere e incoraggiare tali settori. L'appello di Spinelli giunge in un momento particolarmente difficile per il Paese e Civitavecchia da questo punto di vista e i numerosi tagli alle forme assistenziali delle quali beneficiavano. Gli assistiti unitalsi ne sono la conferma. E visse le condizioni in cui versa la sanità locale, dal popolo della città e da Lazio in movimento si chiedono chi è deputato ad occuparsi della grave crisi che sta colpendo tutta la sanità locale e due rappresentanti, Deliguori e Galizia, chiedono un impegno forte di comune e regione a tutela dei nostri lavoratori. proponendo l'apertura di un tavolo tecnico tra comune e regione e organizzazioni sindacali. E si è svolto questa mattina presso l'Aula Pucci del Comune il secondo incontro con Viaggiare in Rete dal titolo Etica Fotografica, progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia volto a sensibilizzare gli studenti, i giovani cittadini e gli appassionati del mondo fotografico e diritti umani. Ascoltiamo le interviste di Riccardo Fondi. Viaggiare in Rete, cosa si propone questa iniziativa? Questa è un'iniziativa che al secondo anno è un po' portare la voce nei paesi che hanno necessità, che hanno bisogno quindi un gruppo di ragazzi che parteciperà a un concorso andrà in questi posti e poi ritorneranno e riporteranno le loro esperienze ai loro compagni di scuola, ai loro amici che sono stati meno fortunati e non hanno avuto la possibilità di fare questo concorso. Rientra in quei compiti che si è prefissa la fondazione di supporto e di aiuto a quei progetti importanti che servono sempre di più alla crescita e alla maturità dei ragazzi e soprattutto alla sensibilizzazione verso chi sta sicuramente peggio di noi e trovare pure quei sistemi che possano in qualche modo alleviare certe situazioni veramente di grossa sofferenza. Come vengono recepite ai ragazzi queste iniziative? Ma credo bene, ora è troppo facile perché la mattina nell'orario scolastico sono ben contenti di venire qui però anche quando facciamo questi tipi di attività al pomeriggio insomma la risposta non è come la mattina però è comunque una buona risposta. Scopo dell'iniziativa dal vostro punto di vista? Ma io ho cercato di rappresentare quello che è il significato della giornata odierna cioè etica fotografica o fotografia etica perché sono argomenti molto importanti che ritengo basilari anche e soprattutto per i ragazzi che affrontano per le prime volte questo viaggio all'interno della fotografia. La sensibilità, la tranquillità, la conoscenza, la possibilità di trasmettere quello che uno pensa credo che sia essenziale per avere una fotografia che possa rendere effettivamente quello che tu volevi raccontare come racconto effettivo. Esplosione di comicità al Traiano che lo scorso sabato sera ha ospitato l'attore comico italiano Marco Mazzocca. I personaggi portati sulla scena rappresentano il repertorio televisivo classico del versatile comico di Casa Zelig ed hanno stimolato comunque il feedback positivo del pubblico. L'evento rientra nell'abbonamento Traiano-Ridens cominciato lo scorso novembre con lo spettacolo dell'attrice Teresa Mannino e chiuderà questo irresistibile ciclo di risate ad aprile prossimo con Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Ed è ancora giallo sulle cause della morte di due persone a Fiumicino. Le analisi hanno escluso l'avvelenamento da botulino ma restano in piedi le ipotesi di intossicazione da monossido di carbonio cibo avariato. Sarà l'autopsia disposta dalla magistratura a fare chiarezza sulla vicenda. Sentiamo il servizio. Il fumo di un piccolo bracere con cui era stata arrossita la carne e gli stessi alimenti mangiati potrebbero essere queste le concause della morte di Domenico e Antonio Paladino rispettivamente zio e nipote, uno anestesista di 56 anni e l'altro barista e dell'intossicazione di Leonardo, il 23enne figlio di Domenico che sabato è stato trovato in un'abitazione di Torri in Pietra a Fiumicino vicino ai corpi senza vita dei suoi parenti. Il giovane è sottoposto a trattamento intensivo presso il Policlinico Gemelli di Roma per intossicazione da monossido di carbonio. In un primo momento si era ipotizzata un'intossicazione da botulino poi invece, esclusa dalle prime analisi, che hanno fatto così prevalere l'ipotesi dell'avvelenamento da monossido di carbonio per via del bracere. Le condizioni del ragazzo sono attualmente stabili ma la prognosi è ancora riservata. Il giovane ha riferito ai carabinieri, subito intervenuti sul posto, che i tre avevano mangiato alimenti sott'olio e la carne al sangue e si erano sentiti male subito dopo. L'appartamento dove si trovavano è molto piccolo e non è quindi escluso che il monossido possa essere una concausa della loro morte. Solo l'autopsia e gli esami tossicologici disposti dalla procura stabiliranno con esattezza le cause. I tre avevano cenato insieme, carne, insalata e conserve di manifattura artigianale. Poi la tragedia. Il 23enne ai primi segnali di malore ha chiamato il 113, ma l'ambulanza non sarebbe riuscita a raggiungere l'abitazione perché il nominativo fornito nella chiamata non corrispondeva a nessuno degli abitanti della via indicata. A scoprire i cadaveri sono stati poi i vicini di casa. Insospettiti dal fatto che i tre non si erano ancora svegliati. Sono entrati ed hanno trovato i due uomini già morti. Sul posto sono quindi arrivati i sanitari del 118, i carabinieri del nucleo investigativo di Ostia e del nucleo operativo radiomobile di Civitavecchia. Leonardo è stato trasportato prima all'ospedale di Bracciano e poi trasferito al Policlinico Gemelli. Ed è prevista per oggi la sentenza in merito allo stupro di gruppo di Montalto di Castro che vede coinvolti otto ragazzi accusati di aver violentato. Nel 2007 una quindicenne di Tarquini a loro coetanea. L'episodio risale la notte tra il 31 marzo e il primo aprile nella pineta di Montalto Marina durante una festa di compleanno. Il processo giunto a conclusione ha visto nelle ultime settimane gli interventi degli avvocati difensori che hanno ribadito che i rapporti sessuali consumati uno alla volta sarebbero stati di natura consenziente. Il PM Carlo Paolella nella precedente udienza aveva invece chiesto una pena di 4 anni per 7 imputati mentre per l'ottavo una pena ridotta per motivi di salute. 16 comuni, due province per un unico territorio legato non solo dalla continuità del paesaggio ma anche dal clima, dalla cultura, dall'enogastronomia, da usi e tradizioni ma soprattutto da una forte motivazione a fare rete. Così Ferindo Palombella, presidente della Camera di Commercio di Viterbo ha descritto Terre della Maremma ovvero l'unione dei comuni al confine tosco-laziale che venerdì ad Orbetello hanno siglato un protocollo di intesa per realizzare azioni di marketing territoriale finalizzate alla promozione turistica dell'intera area. Il progetto al quale hanno aderito anche i comuni di Montalto e Tarquini è promosso dal sindaco di Cellere, Leandro Peroni e vede Orbetello come comune capofila. L'obiettivo è la realizzazione di manifestazioni ed eventi che riguarderanno tutti i comuni firmatari. Il sindaco di Montalto di Castro, Sergio Caci esprime grande soddisfazione per l'iniziativa basta con la differenziazione dei comuni appartenenti a Lazio e alla Toscana, dice. Grazie a Terre della Maremma, infatti, ben 16 enti si uniranno a livello turistico sotto un unico simbolo. Questa integrazione interregionale e intercomunale, aggiunge Caci, porterà nuove risorse. Se i nostri comuni sono ricchi di archeologia, di spiagge e di campagne, potenzialità che se fuse tra di loro faranno fare ai nostri territori un netto salto di qualità, potremo riuscire a raggiungere il nostro obiettivo che è quello di far conoscere la Maremma al resto del mondo. E prosegue in collina la querelle intorno alla questione del digestore. Ora, spiegano da Fontana a Tonna, c'è la conferenza dei servizi che deciderà le sorti del nostro territorio. Basta con i giochetti. Se siamo giunti a questo punto, la colpa è di quelli che davanti facevano di no e dietro dicevano sì. E ciò, come sempre, sulla nostra pelle. Intanto il movimento collinare invita tutti alla conferenza che si terrà domani alle 17.30 presso l'oratorio di Allumiere dove verrà illustrata una possibile soluzione che, dicono, oltre a farci risparmiare soldi potrebbe fino alle mire di chi vuole mettere le mani sulla zona industriale dello spizzicatore. Preoccupazione espressa anche dal comitato antidiscariche e dai vari movimenti ambientalisti perché nella conferenza dei servizi del 2 aprile il voto del comune di Allumiere varrà 1 e non sarà vincolante per il fatto che l'ex assessore provinciale Civita, oggi assessore regionale e Zingaretti, presidente della Regione Lazio appoggia questa proposta. C'è quindi la possibilità che i giochi siano già fatti. Il sindaco di Allumiere, Augusto Battilocchio per mercoledì alle 17.30 ha convocato la commissione dibattimentale uso e assetto del territorio per discutere di questo argomento mentre per venerdì è fissata la seduta straordinaria del Consiglio Comunale. E nell'ambito delle iniziative del welfare locale grazie alla collaborazione delle cooperative Casa Comunale 2000, Solidarietà e CassiaVas proseguono le azioni in favore degli immigrati che vivono nel territorio del distretto sociosanitario F2. Il progetto promuove una migliore conoscenza ed autorrappresentazione dei cittadini immigrati intesa a tutelare l'identità di tanti che hanno intrapreso un percorso di inserimento nella realtà di Ladispoli e Cerveteri attraverso interventi di facilitazione e orientamento alle famiglie ed il superamento delle barriere linguistiche e culturali. Il servizio erogato a titolo gratuito si prefigge di migliorare la percezione dell'immigrato nel territorio valorizzarne la presenza e agevolare l'integrazione nel tessuto connettivo locale. Le azioni messe in campo da un'equip multidisciplinare di assistenti sociali, psicologi e mediatori interculturali sono finalizzate in particolare al sostegno dei nuclei familiari in difficoltà relazionale il cui disagio sia connesso al manifestarsi di complessità nella gestione della genitorialità. Lo scambio culturale che avviene con i minori e con le loro famiglie è fondato sul riconoscimento della specificità di ogni gruppo etno-culturale. Ed è convocato per domani alle 9 il Consiglio Comunale di Tarquini a tre punti all'ordine del giorno. Le comunicazioni del Presidente del Consiglio del Sindaco e degli Assessori la comunicazione del settimo prelevamento dal fondo di riserva effettuato con deliberazione di giunta 287 del 20 dicembre 2012 e infine massima attenzione sull'approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili articolo 21 riscossione coattiva. E parliamo ora di sport. Ieri al Moretti della Marta il CRC di Michele Fabiani davanti ad una cornice numerosissima di pubblico ha battuto per 22-5 il Frascati ottenendo un'importante vittoria ai fini della salvezza. Le interviste realizzate per noi da Romina Mosconi. La partita è stata sicuramente la migliore che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno soprattutto per continuità perché già è tempo che ci esprimiamo bene ma mai per tutta la partita. Questa partita siamo stati bravi dall'inizio alla fine chiaramente con gli errori gli errori fanno parte del gioco ma siamo stati continui dall'inizio dal primo minuto all'ultimo e questa è la cosa che avevo chiesto. Per vincere questa partita era fondamentale questo oggi. Vicino a me a raccontare questo match di oggi c'era mister Mauro Tronca e diceva i ragazzi oggi hanno dato veramente tutto è per questo che manca il fiato. Ma i ragazzi danno sempre tutto dall'inizio dell'anno che i ragazzi danno tutto è chiaro che poi lavorando crescono con l'impegno imparano si adeguano hanno acquisito una grossa consapevolezza rispetto all'inizio dell'anno la cosa diversa è sicuramente che i ragazzi sono consapevoli dei loro mezzi consapevoli di avere delle potenzialità e di poter fare molto bene in questo campionato. Il pre-vigilia quello che avete provato ieri è l'emozione grande che avete provato poi alla fine al triplice fischio finale. C'era la... noi sapevamo che dovevamo fare la partita potevamo portarla a casa se giocavamo come sapevamo come sappiamo fare come abbiamo dimostrato da molte partite a questa parte. Ce l'abbiamo messa tutta non abbiamo mai mollato c'è stata sempre la voglia di giocare con qualche errore di troppo che ovviamente si può migliorare. Non abbiamo mai mollato e i risultati si sono visti. Oggi qual è l'emozione di un dirigente che guarda al passato ricordando quanto avete costruito e ora si può sempre più guardare al futuro? L'emozione è sicuramente forte anche perché questa squadra sta in Serie B una meta che noi da vecchi giocatori abbiamo sempre agognato e soprattutto è imbottita di giovani del vivaio perché l'allenatore ha contribuito a modificare il gioco della squadra durante il corso del campionato. Io l'ho vista dall'inizio dalle prime partite e la sto vedendo sempre di più migliorare quindi ritengo che la salvezza sia un obiettivo a portata di mano anche perché oggi con la vittoria di oggi ci siamo allontanati dalla zona salvezza e mi pare che siamo quintultimi che significa che abbiamo fatto dei passi da gigante per quanto riguarda la salvezza e merito all'allenatore perché dicevo la squadra dalla prima partita che io l'ho vista ad oggi poi l'ho seguita qualche volta anche in trasferta ha completamente cambiato e credo che alla fine questa meta della salvezza arriverà. Oggi i tuoi giovani ti hanno dato grandi soddisfazioni? Oggi i giovani hanno fatto la partita ma la cosa più bella è stata vedere i bambini del Mini Rebi che hanno accompagnato i giocatori all'ingresso in campo oggi è stata veramente la giornata perfetta perché è stato il sedicesimo giocatore in campo un pubblico così non c'è massato questo è un senso di appartenenza che fa solamente onore alla nostra società e nella 28esima giornata di Serie D il Civitavecchia di Mister Ferretti cade 3 a 0 sul rettangolo dell'Ostiamare formazione allenata dal tecnico Civitavecchiese Paolo Caputo i Nerazzurri finiscono la gara in 9 per le espulsioni dell'estremo difensore Boccolini e del centrocampista Severini una sconfitta che lascia la compagine cara a Patron Folgori al penultimo posto della classifica e quota 23 punti e delude lunghezze della zona play-out che permetterebbe al team locale di andarsi a giocare le proprie chance di permanenza nella serie di giugno situazione opposta invece per la squadra di Caputo che con questo successo balza in zona play-off e nella 27esima giornata di eccellenza la Dispoli cade sul campo del Rieti per 3 a 1 stesso turno anche in promozione dove torna alla vittoria la capolista Cerveteri che in casa fa 3 a 0 al Nettuno vince 2 a 1 al comunale sul Palocco il Santa Marinella perdono CPC e tolfa i primi 2 a 1 sul rettangolo del Borgo Flora i secondi 2 a 0 in casa con il Monte Spaccato e parliamo di basket la cestistica batte in casa il Sora capolista con il risultato di 89 a 78 i rossoneri allenati dal tecnico civita vecchiese Mauro Tedeschi sono riusciti in un'impresa quasi sperata la vigilia il Sora arrivava infatti ieri alla Ricucci forte di 20 successi in altrettanti incontri disputati quasi certo di chiudere la stagione imbattuto invece la Ricucci ha regalato un dispiacere Ciociari le due formazioni si sono alternate al campo della gara per tre quarti del match nell'ultima frazione però i rossoneri hanno tirato fuori la grinta che ha contraddistinto le loro gare migliori e grazie ad una impenetrabile difesa e ad uno strepitoso grande alla fine 26 punti per lui sono riusciti ad avere la meglio sulla padrona indiscussa del girone B della serie C2 laziale questa vittoria a dir poco importante per la classifica rossonera e per i primi quattro ambiti posti in chiave playoff della regular season quasi certi dal quinto posto finale fino a pochi giorni fa i civili da vecchiesi si ritrovano ora a sperare con il terzo posto in classifica raggiunto a due partite dal termine della stagione regolare e palla a volo in serie B2 maschile al palasport Asp di Pignatelli supera 3 a 1 l'anguillara nella stessa categoria ma al femminile la coma al privilegio e spugna a quarto 3 a 0 in serie C maschile la privilegio CV bolle cede ma solo al tie break sul rettangolo della fenice in C femminile la Tirreno Power perde per 3 a 1 in casa del quintilia US Acli infine palla a nuoto ancora una sconfitta per le ragazze della Coseri in serie A2 femminile le giocatrici allenate da Fabio Cattaneo affondano 11 a 9 nella vasca dell'acqua chiara AT2000 ora la situazione in classifica diventa sportivamente drammatica e noi ci fermiamo qui il telegiornale Alto Lazio torna come sempre alle 19.45 circa grazie a tutti per la cortesia attenzione arrivederci a